JIN, compassione e benevolenza Ciao a tutti e bentornati alla Kokorozashi. Io sono il maestro Alex Geretto e oggi tratterò in chiave moderna il terzo principio del Bushido, ovvero JIN che rappresenta la compassione e la benevolenza. Prima di iniziare vi ricordo che potete trovare nella apposita playlist che ho creato, i principi del Bushido già trattati e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi. Poi un'altra notizia è che sono tornato proprio un paio di giorni fa dal campionato europeo IQ nel quale sono stato coach per la nazionale italiana del Karate Jisen, ovvero il Karate a pieno contatto con un regolamento orientato all' MMA, quindi che comprende anche la lotta in piedi, a tempo limitato e la lotta a terra. Sono super contento di come si è svolto questo evento, è stata una vera emozione poter fare da coach per la nazionale e anche i miei allievi che hanno partecipato hanno avuto ottimi risultati. li potete trovare sia su Instagram che su il mio profilo Facebook e ovviamente nella sezione dedicata alle news del sito kokorozashi.eu. Il campionato europeo IQ si è svolto dal 26 al 29 ottobre in Slovenia a Novo Mesto e siamo già pronti per ripartire per una prossima competizione che invece si terrà a Udine, quindi qua dietro, e sarà una competizione del Triveneto, sempre organizzata da FIC, per la quale penso proverò anche a contattare qualche altra scuola, sia italiana che estera, per invitarli a partecipare. L'argomento che ci aspetta oggi, devo dire la verità, è piuttosto complesso e direi che il punto migliore da cui cominciare per trattare la trasposizione moderna, in chiave moderna, di questo principio etico della via del samurai, sia il caso di partire dall'etimologia della parola compassione e dall'analisi del kanji giapponese-cinese, perché lo troviamo come carattere in entrambe le culture, in entrambe le lingue. Iniziamo dall'etimologia della parola italiana, compassione, che deriva dal latino compatior, che significa soffrire con, e deriva anche dal greco, ovvero come calco dal greco, di simpatia, che significa provare emozioni con, ossia simpatia. Mentre il kanji cinese e giapponese è composto dal radicale uomo umano e dal numero due, dal carattere che identifica il numero due, intendendo che la definizione indica sempre una relazione tra due soggetti, perché non è concepibile l'individuo isolato, ma sempre in rapporto con la molteplicità di altri uomini. Il significato non è univoco, ma ha una gamma di significati che vanno dalla compassione alla benevolenza fino al senso di umanità reciproca. Il termine compassione, dal greco e dal latino, non è da intendersi nel senso negativo di compatire, per intendere quelle persone che hanno bisogno in qualche modo di sentirsi vittime e che gli altri attorno a loro le compatiscono appunto, che vadano là e dicono oh poverino quanto mi dispiace quello che ti è successo, in modo quasi problematico, perché è normale che a chiunque di noi capiti di avere un periodo un po' difficile e quindi ci fa piacere avere la vicinanza delle altre persone, ma c'è chi proprio utilizza questo sistema per sentirsi compatito e ricevere attenzioni. Quindi in questo caso si richiama molto di più il concetto moderno di empatia, ma secondo me i termini compassione e simpatia, cioè gli originali da cui deriva il termine compassione, sono molto più corretti. Questo perché non vi nascondo che la parola empatia mi ha sempre recato un certo disagio e l'ho sempre trovata particolare perché il suo significato è patire dentro e essere nel pathos altrui, cioè essere dentro al pathos altrui, implica una sorta di fusione nella quale si perdono un po' i confini della identità personale, dove finisco io e inizia l'altra persona e viceversa. Capite che se perdo i confini di me stesso non riuscirò neanche a essere utile o di aiuto alla persona a cui voglio stare vicino perché sta avendo un momento difficile e finisco anche io sommerso e affogato nel suo pantano. Invece di essere un possibile sostegno finisco con lo stare male insieme a lui e basta, quindi dentro al suo pathos. Mentre per avere compassione verso il prossimo bisogna prima essere in contatto con se stessi, con le proprie passioni, dolori e come virtù derivante di questo contatto intimo con se stesso e sincero con se stessi si sarà in grado di entrare in connessione con gli altri. Sulla questione di contatto con se stessi e onestà con noi stessi ne abbiamo già qualcosina accennato nel video precedente, ma lo affronteremo in modo completamente dedicato quando parleremo del principio del Bushido connesso a riguardo. Per questo motivo preferisco la compassione perché secondo me dà molto meglio il senso di partecipare alle emozioni altrui per incontrarle, per sentirle e non per confondermi con esse finendo dentro a delle sabbie mobili. Mentre l'empatia prevede il mettersi nei panni dell'altro svestendoci dei nostri. Io mi tolgo i miei panni e mi metto quelli della persona che sta soffrendo e ritengo che ciò possa essere pericoloso senza contare che essere nel pathos dell'altro non l'implica per forza una partecipazione emotiva. Ora mi spiego meglio. Se io tolgo comportamenti i miei panni per vestire i panni dell'altro sto eliminando me stesso e eliminare se stessi in senso empatico significa promuovere un rapporto narcisista perché l'altro diventa il centro di tutto ed elimino il mio carattere ovvero elimino il principale punto di contatto con l'esterno, di me stesso con l'esterno e se questo capita sto togliendo autenticità alla relazione e promuovendo il narcisismo dell'altra persona. Detto questo come si sviluppa la compassione? Eh non è così facile perché la si forma in fase iniziale della vita attraverso la relazione con i genitori e qui finiamo per forza nella psicologia che è un campo che non mi compete e nei tempi moderni direi che più di bushido e di precetti etici e delle arti marziali se parliamo di compassione vera e propria qui sarebbe il caso di procedere con un percorso di autoconoscenza attraverso la psicoterapia e lavorare sulle varie forme di attaccamento che vengono sviluppate durante l'infanzia con le varie figure che ci forniscono amore e attenzioni quando siamo bambini e neonati per poi la formazione dell'autostima e questo poi si riversa a cascata quello che è anche la nostra capacità di instaurare rapporti e relazioni sani con chi ci circonda quindi finiamo nell'ambito della psicologia e della psicoterapia. Attraverso questo percorso posso rendere la conoscenza della compassione e questa mia autoconoscenza non soltanto filosofica ma pragmatica e applicabile tutti i giorni nelle relazioni che andiamo a instaurare. Siccome non sono uno psicologo dopo questo breve inciso fondamentale comunque secondo me torniamo verso lì di filosofici più legati appunto all'argomento del Bushido come etica filosofica in quanto la compassione la simpatia la benevolenza e simili non sono principi per la fondazione di una morale quindi vi ricordo il discorso abbiamo fatto tra differenza di morale e etica ma bensì sono risorse indispensabili all'uomo per una etica della comunicazione che fondandosi sul rispetto reciproco e sull'incontro con l'altrui sentire individua i presupposti per la ricerca di un accordo che miri a realizzare pacificamente una vita felice poi chiaramente non sempre è possibile da qui ecco che la benevolenza può essere trasposta come incontro del prossimo anche a livello sociale come vincolo fondato sulla giustizia anch'esso principio etico del Bushido già trattato e ve lo lascio quassù nelle schede quindi come ideale di giustizia che poi questa idea di giustizia possa essere applicata più o meno nella realtà questo è un altro discorso perché appunto senza giustizia e benevolenza non potrebbe neanche sussistere una società anche in modo così assurdo in modo ridicolo non potrebbe sussistere neanche una società di ladroni che si uniscono per andare a spogliare i viandanti quindi anche per compiere atti che non sono morali è necessaria la benevolenza ed ecco che la benevolenza risulta essere quindi un principio etico e non un principio morale perché necessaria anche per organizzarsi e compiere atti morali quindi anche il vincolo di società ha per base la benevolenza scambievole delle persone che si legano insieme ma noi siamo qui su questo video per parlare di Bushido di arti marziali quindi come si legano compassione e benevolenza in ambito marziale è indubbio che attraverso l'intenso addestramento e il duro allenamento il praticante diviene in qualche modo un po' diverso dagli altri acquisisce delle capacità offensive un potere che deve essere utilizzato per il bene comune ed è con questa consapevolezza che chi segue il karate do deve sviluppare in se stesso la compassione per poter partecipare emozionalmente alla vita di chi incontra sul suo cammino e comprenderlo escludendo ogni giudizio morale per poter capire i moti dell'animo e le motivazioni che spingono verso certi comportamenti anche se poi non condividiamo questi comportamenti né condividiamo eventualmente le azioni risultanti ma la compassione e la benevolenza sviluppata dal praticante marziale è necessaria per andare proprio a comprendere e avvicinarsi umanamente a chi ci circonda e per poter di conseguenza agire noi come karateka nel mondo che abbiamo attorno nel modo migliore possibile si spera in questo modo il cultore delle arti marziali che segua il codice etico del bushido può portare nel mondo il suo piccolo contributo atto a spingere un cambiamento cogliendo l'opportunità di essere di aiuto ai propri simili grazie all'esercizio della benevolenza bene per quanto riguarda la trattazione del terzo principi del bushido ovvero jinn con passione e benevolenza direi che è tutto spero che il video vi sia piaciuto se avete delle riflessioni da aggiungere fate pure qui sotto nei commenti sarò contento di leggervi chiaramente ho cercato di stringere il più possibile per cercare di non perdermi in mezz'ora di video ma di condensare bene i concetti che mi interessava riuscire a esporre quindi magari se alcune cose non mi sono chiare chiedete pure o riascoltate il video noi ci vediamo alla prossima uscita al prossimo episodio del bushido oppure qualche altro video che magari uscirà nel frattempo non dimenticatevi di iscrivervi e che la forza di volontà attraversa anche le rocce